buonasera cari amiche cari amici q&a del lunedì sera ma sono ancora scosso a vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube di attivare la campanella di mettere i vostri like sempre più di mille mi auguro più di mille una volta si diceva mille non più mille no mille più mille ai miei video se vi piacciono ovviamente poi attivate la campanella come vi ho detto e scaricate dal link in descrizione l'applicazione numero 10 siamo già a 140 ho toccato i 185 mila su instagram mi diverte sono partito nel 2018 e a proposito di instagram di instagram vi dico vi racconto cos'è successo oggi allora l'immagine che aveva che ha preso proprio pepe di stefano nell'uscita dal campo che vi ho già mostrato di di slatan ibrahimovic è un'immagine forte triste mesta e da lì ho voluto dedicare un video sul mio profilo instagram andate a vederlo e avevo deciso di mettere una canzone molto bella una canzone composta pensate le parole sono di alberto sordi e la musica di piero piccioni colonna sonora del film fumo di londra siamo a metà degli anni 60 breve amore cantato cantata la canzone da mina ed era meraviglioso vado vi vado a leggere le parole perché ve le leggo subito è molto bella eccola qua le parole con la musica bellissima sulle immagini erano molto forti molto goodbye my love anche se parti da me il nostro breve incontro non scordo più dedicato a slatan e non scordarlo mai nemmeno tu meraviglioso tu sei per me io penserò sempre a te e al nostro breve amore alla felicità che se ritornerai ritornerà bellissimo poi cosa succede instagram ha una lista di canzoni un'enorme lista di canzoni ma breve amore di mina non c'è e quindi non si può mettere non si può inserire sul sul video allora mi sono mi è venuta in mente un'altra canzone di nancy sinatra la ricorderete dal film si vive solo due volte un film di jess bond mio assoluto idolo you live only you will only live twice di nancy sinatra si vive si vive solo due volte e allora mi è venuto in mente perché la canzone dice one for yourself uno per una una vivi una vita per te stessa un one life un'altra vita for for your dreams per i tuoi sogni ecco io mi auguro che slatan ibrahimovic ibrahimovic gli ho dedicato questa canzone perché nella prossima nella seconda o terza vita calcistica nel milan perché ne ha vissute già tante ci possa ancora regalare dei sogni e volevo dirvelo perché è un video mi piace mettere sempre le musiche belle con i video belli però diciamo e voglio sottolineare ancora una volta perché voi volete notizie che è abbastanza pesante l'infortunio al polpaccio non è una cosa leggera avete visto come è sceso pensate un breve scatto chiaro che poi mi direte ormai è vecchio eccetera io rispetto le mie le vostre opinioni io ibra lo tengo anche cartonato come sempre ho detto ha fatto ci sono due nomi adesso che sono nati uno arriva dal parliamo di mercato poi parleremo del q a dal the telegraph sembra che il milan secondo the telegraph possa essere interessato a walker terzino mio idolo già del tottenham ora un po fuori dalle strategie di pep guardiola di guardiola nel manchester city signori partiamo subito da un dato 33 anni ha avuto già dei problemi fisici io non credo sinceramente mi informerò e vi confermerò se ci sia interesse o meno sembra strano poi ha eccitato la fantasia dei cronisti la visita di teo scusate del fratello lucas hernandez e di pavar negli spogliatoi del milan dopo la partita vinta con lecce chi sono hernandez e il fratello pavar compagno di nazionale di teo hernandez già si pensa perché pavar ha detto non ho ancora non ho ancora parlato per il mio rinnovo vedremo in futuro e allora il famoso uno più uno è diventato cinque magari pavar si vuole offrire al milan non lo so è un 96 quindi a 27 anni è un campione c'è solo un piccolissimo problema 5 milioni di ingaggio mi sembrano un po tanti per un giocatore che in un in un ruolo dove il milan sembra sia abbastanza coperto florenzi calabria calulu a destra calulu chier ciao calulu chier ciao tomori poi vediamo se rimane gabbia e dall'altra parte ma non gioca a sinistra hernandez e balloture mi sembra strano con tutti i problemi del milan là davanti eventuale centrocampista eventuale dieci eventuale fascia destra capire la situazione di leao si butti su pavar mi sembra che ci siano delle priorità può darsi che interessi ma mi sembra che ci siano altre priorità ma andiamo parlando un po di tutto parliamo del q&a vediamo le vostre domande e si varia si spazia su tutto lo scibile milan vedete ho già acceso il computer vedete l'immagine ed ecco qua partiamo subito dalla prima domanda vediamo chi è a chi me la daniele pagiarin carlo so che non avrai seguito ma specifica il lavoro che fa crunic disumano come non avrà seguito certo crunic è diventato un giocatore titolarissimo del milan ero molto scettico all'inizio mi sembrava un giocatore che non mi offrisse sì un po di rendimento un po di quantità adesso è diventato un giocatore fa un po fatica come contro il lecce quando lì dietro in mezzo a quando soffre di moltitudine ma per esempio a roma è perfetto insieme a benasser che mi è piaciuto tantissimo e a tonali marco giurda ci credi se ti dico che temevo più il napoli che i cugini non è una questione di temere più il napoli che l'inter diciamo così che il milan arriva alla paria con l'inter che sa già cosa vuol dire la tensione per questi giovani ragazzi alla vigilia di una partita perché la tensione che c'è stata col napoli non sarà molto inferiore a quella con l'inter e il fatto di aver affrontato il napoli che ieri ha battuto la juventus a dimostrazione che il milan ha battuto una grandissima squadra ha fatto un grandissimo esploi ci aiuterà ale arpiani calo puoi fare un recap delle date delle medie dei biglietti e oggi e adesso non guardate poi magari lo ridico poi nel video di domani mattina ve lo ridico oggi cominciano per tre giorni gli abbonati quindi gli abbonati senza correre stare tre ore se il tuo posto fino al 29 non te lo toglie nessuno vai e lo compri giuseppe morina con un leao così stratosferico e loro con uno screen in meno abbiamo buone possibilità per passare certo l'importante che leao ci possa aiutare come ci ha aiutato nella scorsa stagione a superare tutti gli ostacoli arriva bene lukaku arriva bene leao una sfida nella sfida ci divertiremo rosella maldini ma quanto è forte tonali ieri ha giocato anche non il miglior non non nelle sue migliori condizioni non è stato precisissimo nei passaggi ma che lavoro che lavoro era dovunque a recuperare palloni tonali uno di noi bagliore di fiamma alessandro alex vediamo poi la prossima la prossima schermata filippo raiola ibra tolto lo spazio un attaccante vero no non ha tolto lo spazio a un altro attaccante il milan aveva shiru ha preso orighi non stiamo discutendo adesso bene o male ha preso orighi e aveva rebic come alternativa là davanti poi anche ibra che sapevamo sempre che potesse essere un un ulteriore alternativa ma la presenza di ibra non ha tolto nulla dal dalla dalla dall'idea dei dirigenti del milan di prendere gli attaccanti no non ha tolto nulla prense mau quale attaccante prenderesti per la prossima stagione io sono impazzisco per sinisterra sulle fasce e per terrem moffi moffi là davanti samarzi ti risulta nei radio del milan non lo so non non mi sembra ma non lo so veramente non lo so mi informerò agatino conti ciao carlo volevo dirti perché non gioca adli è una domanda che ci facciamo sempre non gioca adli non so che cosa dirvi l'abbiamo chiesto tante volte a pioli dice che li tiene tutti in considerazione però pioli ha tenuto fuori due mesi pobega poi l'ho inserito sempre quando sarà il momento inserirà anche adli ma è di difficile collocazione credo mike montana che ne pensi della voce su ferran torres può essere un possibile acquisto per estate sinceramente non so dove tu l'abbia sentita non dubito che tu l'abbia sentita ma non ho mai non ho idea se l'avessi sentita vagamente ma sono tanti nomi che escono secondo lei la battiamo la seconda squadra di milano in champions e lo spero lo spero proprio stefanino forza milan vecchio cuore oh colardo 83 vergognoso vedere non passare la palla cdk solo perché sanno che superiori a tutti ma la domanda colardo 83 è questa per quale motivo se tu hai un grande campione non devi passargli la palla che ti aiuta a vincere e diventare una leggenda mi sembra puro autolesionismo forse si riferiscono a rebic che ha tentato invece di passarla ma mi sembra una cosa controproducente nanni cal mi sembra che con il centrocampo a tre la squadra sia più ordinata sei d'accordo molto d'accordo molto d'accordo ieri ha provato a mettere diaz perché mettere lì benasser avrebbe magari avrebbe avuto problemi nello stretto però è cambiato poco carissimo carlo ghidelli voglio chiederti perché ci sono sempre tire molla go go su firmi acquisti eccessioni perché il va avanti con calma per quello che riguarda i rinnovi e non non dipende anche da da chi deve essere rinnovato come leao per quello che riguarda invece gli acquisti adesso va bene pianificare avere un'idea non sai se rimane leao non sai se vendi leao non sai se arrivi fra le prime quattro non sai se arrivi in finale in champions adesso come fai a muoverti sul mercato davide longo quando si decine non rinnovare il giocatore senza il quale saremo da mezza classifica e lo aspettiamo tutti sul mezza classifica magari un po esagerato però indubbiamente saremo mezza classifica come i grandi campioni del magari il napoli sarebbe mezza classifica senza osimen e senza quara è chiaro che questi campioni ti aiutano ma tutte le squadre senza i loro campioni sarebbero mezza classifica dovrebbe continuare a giocare ibra sarò cieco sarò criticato sì e sono prevenuto non non sono obiettivo però al bagubra c'è una sola domanda quando rinnova di leao non lo so è caotico la situazione mi hanno mi hanno accusato giustamente di aver detto che era sotto nell'uovo di pasqua perché a me avevano detto mi avevano detto che la pasqua potrebbe essere adesso non mi sbilancio più avete ragione secondo te leao può vincere il pallone d'oro geghi se rimane in un milan vincente sì richi mazza sei d'accordo che sul fatto che leao e tre primi 5 attaccanti d'europa allora sulla pura qualità sì sulla continuità deve migliorare molto ultima carlo a tua sensazione leao rinnova giugno o sarà ceduto e non lo so se si accorgono che che george mendes punta ad andare a zero sono sicuro che lo venderanno non possiamo farci cadere nella nella situazione passata kevin secondo te è possibile un arrivo di abram mi hanno detto di no sabato ci sarà girù penso di sì ne ho letti 25 su 50 magari nelle prossime puntate ne leggerò ancora voglio solo ricordarvi un anno fa che cosa è successo tonali segna il gol contro la lazio il gol dello scudetto è passato un anno forza vecchio cuore rosso nero forza lotta vincerai non ti lasceremo mai quello che abbiamo cantato un anno fa abbonatemi al mio canale anzi non abbonatevi iscrivetevi è gratis al mio canale youtube e like più di mille e like più di mille